Ciao a tutti da Coach Gabri, bentornati sul mio canale. Per chi di voi non mi conoscesse, sono un personal trainer, un fitness coach specializzato in allenamenti a distanza e mi occupo di aiutare le persone a raggiungere la forma fisica che più desiderano. Nel video di oggi vi mostro un allenamento per chi ha poco tempo e solo un piccolo attrezzo a disposizione, una kettlebell. In realtà si può usare anche con un altro tipo di attrezzatura. Se non avete proprio niente, riempite uno zaino di libri e usate quello. Può capitare di non avere veramente tempo qua, in meno di 10 minuti riuscite a fare riscaldamento, workout e un pochino di stretching lasciandovi appunto il tempo per fare tutto quello che vi serve nel resto della giornata. Vi lascio subito al video, il workout prevede solo 5 movimenti, ve lo spiego velocemente. Funziona come countdown o come ladder o scala decrescente, come vogliate chiamarlo. Parte da 10 ripetizioni e si scende 2 ripetizioni alla volta fino ad arrivare a 2 ripetizioni di 5 movimenti che saranno goblet squat, american swing, deadlift high pull, curl e presse di forza. Tra un set e l'altro ci saranno 20 secondi di pausa e poi si passerà al set successivo. Non perdiamo tempo, avete poco tempo appunto per fare questo allenamento, quindi andiamo subito. 3, 2, 1, via! 3, 2, via! 1, via! 1, via! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti